Prorogare la concessione che scadrebbe nel 2024 di altri tre anni, dunque sino al 2027, questa è stata la richiesta di nuove acque che ha acceso le polemiche. Un tema che sarà al centro della prossima conferenza territoriale dei sindaci, convocata per il prossimo 11 gennaio su iniziativa del primo cittadino di Fogliano. Da Arezzo è invece arrivata la proposta del sindaco Alessandro Ghinelli che sta valutando un nuovo assetto societario con ingresso nella compagine di nuove acque della Multi Utility Estra. Noi abbiamo davanti due problemi che coesistono, uno è quello delle tariffe, allora nuove acque ha fatto sapere, ha fatto delle simulazioni, delle prefigurazioni che attraverso questo prolungamento della convenzione si riesce a camminare le tariffe, quindi ha dato una risposta ai cittadini. Di fatto rimane aperto il problema della ripubblicizzazione dell'acqua pubblica, tema sul quale mi sono speso anche io personalmente. Quindi come mettere insieme le due cose? Si è pensato di discutere il fatto se nel capitale di nuove acque per una parte della componente privata non possa entrare una componente pubblica che potrebbe essere impersonificata esattamente dalla società che appartiene sostanzialmente alle società consortili del gas delle province di Arezzo, Siena e Prato e che è Estra. Però non dobbiamo aver fretta di discutere la cessione, l'allungamento della concessione rispetto a un fatto più importante che è quello della ripubblicizzazione dell'acqua. Potrebbe essere un primo passo Estra? Potrebbe essere un primo passo, esattamente. La proposta che ha valutato anche con il Presidente Macri? Ovviamente sì, gliel'ho chiesto se era disponibile, ma non solo con lui, se ne è parlato anche soprattutto con la componente mia omologa che sono i tre sindaci, Valentini è d'accordo, Biffoni è d'accordo, quindi i proprietari pubblici sono d'accordo per questo allargamento al tema dell'acqua della gestione di Estra.